Nuova odissea questa mattina sulla linea ferroviaria Isernia-Roma. Vagoni strapieni e passeggeri in piedi sul treno partito alle 6.40 dal capoluogo Pentro. A comunicare i disagi sono stati gli stessi pendolari che hanno inviato diverse foto al gruppo Facebook Il Binario 20bis, pagina satirica che raccoglie notizie e segnalazioni relative alle tratte ferroviarie molisane. Non si è fatta attendere la polemica che si è accesa proprio tra i commenti sul social network con tanto di lamentele dirette di quanti si trovavano sul convoglio. A finire nel mirino di passeggeri e utenti i recenti tagli che hanno interessato sia le corse da Isernia-Roma sia quelle da Isernia-Napoli, tra queste la soppressione del regionale Isernia-Roma delle 7.45. Con un'unica corsa mattutina verso la capitale, i viaggiatori, venuta meno la possibilità di usufruire di due treni diversi, si sono ritrovati stipati alla buona nelle carrozze a disposizione. I tagli, tra l'altro, avevano fatto scendere in campo il comitato di pendolari e diverse associazioni, con richiesta ai vertici regionali di rivedere le scelte nell'ottica di tutelare l'utenza. Ma dalla regione si era replicato come le linee interessate dalle soppressioni fossero poco frequentate, tanto da non far prevedere particolari disagi. Alla luce della situazione di questa mattina, tuttavia, tali parole sono state oggetto di aspre critiche. A ciò si aggiunge, tra l'altro, anche lo stato in cui si trovava, al momento della partenza dalla capitale, il treno Roma Termini-Isernia dell'altra sera. Cartacce sui pavimenti, bottigliette vuote sui sedili e cestini dei rifiuti stracolmi. Un'assenza di pulizia, anch'essa segnalata da chi è salito sul convoglio. Situazioni a cui gli utenti chiedono ora una pronta risposta. Situazioni a cui gli utenti chiedono ora una risposta.